Ciao ragazzi, qui dai Vivai Massaroni in Perugia in collaborazione con gli amici di Trebi Lab, Natale in Serra. Ci presentiamo, quindi io mi chiamo Raffaella, io mi chiamo Angela e io Simona. Il canale promuove questo tipo di attività perché avvicina i ragazzi a toccare con mano, ad annossare, a guardare i colori diversi in ogni stagione. Complimenti, continuate così. Trebi Lab vi proporrà degli eventi dedicati alle famiglie, collaboratori ludico-scientifici in chiave artistica, ma proporrà anche iniziative per un pubblico adulto. Allora, il Cotinus, attenzione, lui ha un nome particolarissimo, lui è l'albero della nebbia. Quando muore la clorofilla, che non ce la fa più perché fa troppo freddo, non c'è la giusta potenza del sole, scompare e arriva il pigmento secondario, che è il flavonoide, che riesce ad assorbire anche luce un pochino più tenue. Grazie a tutti.